Scriviamo con la penna nera Va bene anche verde? No, nera Va bene anche blu No, non è un quiz Scegli tu il colore della penna Scegli con nero e nero Quanti quadretti lasciamo? Tre Oh, ecco la merenda Miele o arance? Sì, maestra, sì Sì, cosa? Sì, mele C'è arance Sì, non ho fame Quanti quadretti vanno lasciati? Tre Non voglio gli spinaci Eh, lo so, ma purtroppo ci sono quelli Ma io volevo la pizza Invece ci sono gli spinaci Quanti quadretti? No, spinaci Senti, allora, lasciamo una recensione negativa La cuoca carmela su TripAdvisor Ma mangia stai cazzo di fila Allora, Paolo ha quattro arance Anch'io mi chiamo Paolo Sì, e che cazzo se ne frega Cazzo di fila andiamo a mangiare Immensa No, te cracco Certo, costa un po' però Ok, scriviamo Dove? Ma, proviamo a indovinare Sulla fronte, sul banco, sul quaderno, sì Paolo Stella, vai dalla bidella Gli chiedi se mi fa due fotocopie E dov'è la bidella? Ma a casa sua Vuoi l'indirizzo? Sì, grazie Ma vai qua fuori